Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo a Cervia per fare un tour completo del centro di Cervia appunto. Questa che troviamo qui subito sulla visuale si chiama Torre San Michele ed è una torre che venne edificata nella fine del Seicento, pensate, e fu costruita per la difesa del porto ed è il magaddino del sale. E' veramente molto bella, qua troviamo il bellissimo porto canale di Cervia e ora continueremo a fare il giro per il centro storico di Cervia. Ecco, questo è l'ingresso principale e ora hanno messo l'info point, purtroppo non si può salire, mi sono già informato, però è bellissima questa torre. Di qua tutto il bel porto canale. Ok, qui ci sono i magazzini del sale che appunto proteggeva Torre San Michele con un simpatico barettino e adesso ci dirigiamo verso Piazza Pisacane e quindi entreremo in centro. Ok, da questa porta si entra nel centro Cervia, nel cuore di Cervia e quindi passiamo subito. Che bello, qui troviamo tutta la porta e qua Piazza Pisacane. Siamo in Piazza Pisacane, è veramente bellissima, molto 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 bella. qua troviamo un'altra porta di qua, che porta, porta che porta, in Piazza Garibaldi, cuore della città di Cervia. Sotto la porta c'è una gran confusione. Allora, prima di visitare e spiegarvi la bellissima Piazza Garibaldi, anche perché c'è una gran confusione, andiamo a prendere un frullato in quel posto lì, che si chiama la frullerica. È un frullato, è un posto che ha frullati, succhie di frutta, milkshake, molto buoni, molto consigliati. E quindi li andremo a provare. Questo è il menù. Carina la viuzza. Ok, hanno portato questa fantastica granita al limone che adesso andiamo a provare. E questi snack di pesca, yogurt e qualcos'altro. Andiamo subito a provare la granitina. Molto 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 buona. La frullerica, decisamente approvato. Buonissimi anche questi pezzettini di frutta. Ok, lasciamo la frullerica e godiamoci questa bellissima Piazza Garibaldi. La struttura 18 di Piazza Garibaldi. Qui troviamo il municipio di Cervia, mentre da questa parte la cattedrale. Purtroppo c'è un rumore incredibile perché stasera ci sarà un evento abbastanza importante. Di qua troviamo Corso Marzini e poi di là si cottiva. Guardate che bei piccolini qui subito dietro Piazza Garibaldi. Qui tutti i portici, la cattedrale è qua sopra il municipio. Vedete? Eccolo. Piazza Garibaldi, Cervia. Proseguiamo per Corso Giuseppe Mazzini. Molto bello. E adesso andiamo verso il cuore del porto Canale. Di qua tutto il Balcanale. Adesso proseguiamo su questa bellissima via. Vedete? Questo è il bellissimo e pittoresco canale con tutti i localini, qua le barche. Molto 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 bello. Ok, siamo arrivati alla fine e adesso torniamo a Torre San Michele per le conclusioni e i saliti. Quindi ragazzi, per questo video era tutto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Ciao a tutti!